Benvenuti sul canale di non aprite questo blog. Oggi stiamo qua a parlare di non aver paura è solo uno spettacolo. Allora ragazzi, il teatro Martinit, che è un teatro in zona stazione di Lambrate, Milano, porta uno spettacolo di paura. Una cosa molto interessante, questo spettacolo qua è stato messo in scena a Roma un po' di tempo fa e adesso è la prima volta che viene qua a Milano. Fanno uno show incentrato sullo spavento, è una situazione molto particolare. Noi di non aprite questo blog andremo sicuramente al teatro Martinit a vederlo perché ci hanno invitato per provare questa esperienza. Io sono curiosissimo di sapere com'è. A noi comunque piace parlare di horror a 360 gradi. Parliamo di film, parliamo di serie tv, parliamo di libri, di videogiochi e il teatro ci manca. Secondo me è molto interessante questa cosa del teatro horror perché si avvicina molto al discorso che è nato recentemente sull'escape room. Stanno nascendo diversi tipi di escape room dove ci sono attori che interpretano dei ruoli. Quindi vivere delle esperienze horror a 360 gradi. Anche questo spettacolo qua è uno spettacolo dove sei coinvolto, sei in una situazione che ti avvolge a 360 gradi. Ok, compratevi pure il VR per giocare ai giochi horror, ma qua stiamo parlando di essere veramente in un'ambientazione fatta per spaventarti e anche per ridere. Perché comunque quante volte fate uno spavento a uno, a un vostro amico e poi ridete. Io una cosa che adoro fare, cioè far spaventare qualcuno e poi guardarlo mentre si caga sotto e ridere in faccia perché l'ho fatto spaventare. La paura è anche ridere perché hai bisogno di sfogare quell'ansia che ti ha creato. Quindi questo qua è uno spettacolo basato solo sullo spavento ma anche sul divertimento e sulla ridata. Inizia il 17 maggio e finisce il 3 giorni. Potete acquistare i biglietti anche online. Vi consiglio di usare il nostro codice sconto che vi metto in sovraimpressione e vi scrivo qui sotto. Lo inserite quando andate a comprare il biglietto e invece che pagare il biglietto 22 euro lo pagate solo 14 euro. È veramente pochissimo per fare un'esperienza diversa dal solito. Se amate l'horror fatela, poi potrà piacervi o non piacervi, almeno lo avete provato. Anzi, se poi andate fatemi sapere nei commenti. Se avete problemi a usare il codice sconto scrivetemi, fatemi sapere che vi diamo una mano. Non è pubblicità. Ci teniamo a promuovere questo spettacolo per la sua natura e perché abbiamo la possibilità di fornirvi questo codice sconto per risparmiare. Quindi non ci guadagniamo nulla, non ci pagano. Lo facciamo perché è come promuoviamo un film in uscita al cinema o in un video e non prendiamo assolutamente di soldi. Lo facciamo solo per informarvi di quello che è il panorama dell'horror. Fate questa esperienza, noi la faremo e faremo anche un video reaction o insomma quello che ci va di fare lo faremo, tempo permettendo e tutto. Se il video vi è piaciuto, se siete interessati a questo spettacolo, scrivete un commento qua sotto. Lasciate like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima!